Mi scusi padrino se vengo a disturbarla in questo giorno che si sposa a sua figlia, ma io devo chiederle un favore padrino. Cosa c'è Crozza? Dimmi cosa posso fare per te? Io voglio fare un programma. Sì? E dove lo vorresti fare? Rai uno. Perfetto, Rai uno. Meglio di no. No, Rai uno è meglio di no. Rai due? Meglio di no. Ce l'ho l'idea. Italia uno. Cosa? Italia uno? Ma te sei cimolito? So io dove fartelo fare un programma a te. Sarà mica MTV padrino? Tipo? No. Sì? No. Ragazzi, mi raccomando, dobbiamo fare il più grande show della Repubblica Italiana. Siete in cuffia? Sì. Mixer audio è pronto? Sì. Ok, le grafiche ce le abbiamo sul Jobact? No, no, no. Come non ce le abbiamo? Le grafiche sul Jobact? Non ci sono. Sì, è vero, lui va un po' a cazzo. Va bene. Allora, mi raccomando, non stringete i cameramen, scelte i cuffi i cameramen, non dovete stringere troppo, non fate nel primo piano, sennò si vede che ha lo sguardo vacuo. Bene, attenzione, mancano cinque secondi alla fine del nero, quattro, tre, due, beh, ecco la sigla! Ladies and gentlemen, dalla stanza ovale della White House in Washington, va ora in onda One Totally New Amazing, puntata del Renzi alla Casa Bianca Show! Buonasera! Cosa fai lì? No. Good evening, sir! Ma, guardi che... I am the new president of the United States of America! No, 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 no. Do you have pizza for seasons? Ma non porti nella pizza alla Casa Bianca! Seasons. Seasons. Or for formaggi. Hai quattro formaggi! Come si dice formaggi? Cheese. No, cheese è per i selfie. No, 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 no. Do you know... Senta. I like a typical formaggi... Mi piace il... Vicenzo. Cosa sta facendo? Do you know that formaggi... Cosa sta facendo? That is made in little country very near to Vicenzo. Ma cosa sta dicendo? Cosa fa? Sto spiegando il tipo e il formaggio che ci voglio. Ma non può, tra l'altro, non può farlo, non deve... You take highway A4 in direction Venice... Prende l'autostrada a quattro... Poi East Vicenza... Esce a East Vicenza... Esce a East Vicenza... E chiede... And then Esk... Esk, chiede... Esce a Vicenza Est e chiede cosa? Asiago! 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 Don't forget it that I am the new president! Non è il new president dell'America! Salve una sera a tutti! Posso offrirvi qualcosa dal frigo bar? Un whisky? Un gin? No! Un po' di guerra fredda? Guardi che non... Scusi, presidente Renzi, non può stare lì! Quella è la stanza del presidente degli Stati Uniti! Signori mei, io ho già provato che se voglio il posto di qualcuno me lo riprendo! E no, e no, e no... Infatti ho già imparato a dire perfettamente Barack Stayseren... Ma che Barack Stayseren? Guardi che... Io e gli americani siamo uguali! Ah, sì? Sì! Loro hanno sterminato i pelle rosse, io le bandiere rosse! Ah, sì! La minoranza del PD non mi sembra una riserva indiana! Sì, però guardi che non può stare... Comunque oggi ho invitato ufficialmente Obama all'Expo! Ah, ah! Infatti è stato recentemente nel deserto della Valle della Morte, quindi hai crepace e luoghi in ospitali ormai abituato! Ho capito, se... No, stia, no, giù, no, 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 metta giù i piedi da lì, non può! Eh, quant'è formale, che noia! Ma guardi che se la trovano passa un guaio, Renzi, non è... Lei non può stare lì! Scusi, sedido, io ho appena parlato con l'uomo che ha incarnato il sogno americano! E qual è? Incontrare me! No, non è vero, non è quello il sogno americano! Ha ragione, il vero motivo per cui ho incontrato Obama è che mi doveva illustrare dove è il contatore, come si attiva la lavatrice, fare i doppioni delle chiavi del garage! Ma no, ma no! Insomma, mi ha chiesto se per cortesia manda avanti questa Barack! Eh, guardi che non credo! Tra l'altro lei non potrà mai andare alla Casa Bianca, se lo tocca dalla testa ci andrà Hillary Clinton! Su questo sono d'accordo! Una donna alla Casa Bianca ci vuole, se Hillary vuole venire un paio di volte la settimana per pulire le bandiere... No, ma guardi... Anzi, fammi controllare un attimo! Ma stai esagerando... Monica! No, la prego! No, volevo vedere se era ancora lì, non vorrei creare in baratti! La prego! Lei non può... Ehi, Presidente! È il Premier Italiano! Non può fare... Non tocchi niente! Non tocchi! Non tocchi niente! Cosa? Non tocchi niente! Questo no! Ma lasci stare! Questo cos'è? No, eh no! No, ma non è un gioco! Lasci stare! Sono documenti top secret! Ustica, P2, che palle... Ma come che palle? Ah! Caso Moro! Ah, ha trovato la soluzione al caso Moro! Ah, signori miei, se gli Stati Uniti tenevano sotto controllo Federica Moro, la mia morabile interprete di Iuppis con Jerry Calabria, ha avuto le loro buone ragioni! Ma non è quello! Chi sogno io per giudicaglie! Ma non è quello! Allora, lei non può... Non può... Cosa fa? La prego, non può fare così! No, tolga i piedi da lì! Li tolga! Ma mi dovrò abitare per quando sarò eletto? Ma non sarà eletto lì! Mi dovrei pure abituare ad essere eletto in generale! Sì, però non può mettersi così a suo agio! Vabbè che ha visto Obama, ma... Non tocchi! Cosa fa? Non potete immaginare cosa ho scoperto! Cosa ho scoperto? Segreti industriali! No, gli asciugamani di Obama! Ma lasci stare gli asciugamani! C'è il logo della Cassaviano! Vabbè, sì, sono... Sono originali! Sì! Non li vendono mica nei negozi! Eh, ho capito, ma... Eh, no! Io quasi quasi... No, no, no! Uno, uno, dai! Non si raccorgono! Ma non può rubare gli asciugamani! Ma dai! Ma non faccia l'italiano... Il mio governo ha le mani pulite! Se ti pulisci con le mani dovrai pure asciugartene, no? Senta, no, invece posso fare una domanda sull'Italia? Perché a proposito di giustizia... Raffaella Paita, la candidata del PD in Liguria, è indagata... Eh, ho capito, ma... Lei crede che dovrebbe fare un passo indietro? Ora mi scusi... Io sono qui nell'ufficio dell'uomo più potente del mondo per parlare di piccolezze come la Liguria che mi fa piangere il cuore! È tempo sprecato, è come essere a Disneyland e fare solo l'altalena! Io lo voglio dire! Ho capito, ma tanto lei deve tornare qua e... Cosa c'è? Cosa ha visto? Oddio! Cosa c'è? Michelle! Ecco, non la tocco! No, 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 quella è sua moglie, è la moglie di Obama, non la tocco! Per favore, siccome Barack, già che c'era, mi ha chiesto se potevo occuparmi un po' anche di lei! Ma cosa dì? Ma lasci stare, si sta montando la... Ecco, ma bellissima donna... Ma che ci posso fare se lei già mi ama? Ma non dica stupidaggi! Ma non dica stupidaggi! Ma perché? Non staremo bene insieme? No, no! La first lady e lo sbruffon! Ma cosa dici? Sembro stupido? Sì, guardi, sì! Io sogno, però, sogno! Cosa sogna? E' un sogno quella cosa sconvolgente che l'amore sta cadendo tra noi E sta casetta bianca sembra fatta su misura proprio per noi due La bella è l'italiano un po' saltrone che ha guardato sembra stupido Ma poi con le parole ti ubriaca e diventi tu lo stupido Se ne faremo una ragione se baraccagnese piangeranno un po' Ma siamo noi la coppia del futuro Il strullo pisce e lo sbruffon E nello studio vale come giovani studenti limoniamo anche un po' La CIA che fa la guardia, l'FBI che ci protegge, il sole dico no Stavolta capiranno tutti che tutti che non rosicheranno più Che un presidente e tu la mia first lady comandiamo dal polo a TV Qui nella casa bianca questo schianto di signore e questo golden boy Che mentre fai l'amore schiacci un casto e di mari si invadono il Perù Oh oh I love you I love you Bel sogno eh È un sogno I love you I love you Guardi un po' Wake up I love you What are you doing here? Stand up Stand up No, puoi fare lo spelling per favore Stand up Voglio che se ne vada Ma sono il futuro presidente Come on Siete fantastici Siete un grandissimo pubblico Sapete la differenza che c'è tra la fidanzata, l'amante e la moglie dopo aver fatto sesso? Dopo aver fatto sesso la fidanzata ti dice ti amo L'amante ti dice sei stato grande E la moglie ti dice Beige Il soffitto lo farei beige Siete un pubblico fantastico gente E adesso voglio chiamare sul palco due miei amici, due grandissimi amici Fate un grande applauso gente perché ricordatevi Gli amici degli amici sono anche i vostri amici Ladies and gentlemen Solo per questa notte qui Luke and Paul Oh yeah Oh yeah Luke and Paul Ciao grande gente I grandi Luke and Paul Ciao ragazzi Ciao Franky Ciao Come stai? Quanto tempo è passato Ciao Come stanno i tuoi ragazzi Franky? Sono sempre due Sono sempre due E gli ergastoli sono sempre quattro Grazie Franky Passa il tempo ma sei sempre lo stesso Franky che grande Hai sempre la stessa faccia La stessa faccia La stessa faccia Che c'è sulla foto segnaletica Identica Bravo Franky Ehi ragazzi Quanto tempo è passato? L'ultima volta che ci siamo visti Ve lo ricordate? Ehi È stato quella sera Siamo andati a cena E abbiamo ordinato due pizzini e una birra E non sono più i tempi di una volta Ehi hai ragione Non è più come una volta Adesso ci sono tutte quelle Ci sono tutte quelle Come si chiamano? Quelle leggi Esatto Quelle leggi Le leggi Ma perché ci fanno questo? Questo è cazzo di leggi Bravo Frank Giusto Franky Le leggi Le leggi Ma noi abbiamo le mani legate Avete mai fatto un'opa con le leggi? Con le mani legate? A noi ci chiamano furbetti Ma non siamo noi che siamo furbetti Sono loro che sono scemi È un altro discorso Bravo Franky You can pull Franky, Franky Che grande show che hai messo in piedi C'è la band Ah sì, è fortissima C'è il pubblico Ah sì, è eccezionale C'è la scenografia Ah sì E dove cazzo è? È il grande show Eh sì, è un grande show A parte gli ospiti È un grande show Ah 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 Franky È il grande Franky No, guarda Guarda Franky Mi è venuta in mente una cosa Pol, te la racconto anche a te che è bellissima Racconta Questa volta eravamo a Las Vegas Eravamo al Flamingo No, c'erano anche Gio Caschetto Me peperati Me le ricordo A un certo punto Ti ricordi poi l'entrata Quel gran pezzo di femmina Che corpo ragazzi Io quando l'ho vista Veramente Mi è venuta proprio subito E ti ricordi o no? Luca, lascia stare Fammi raccontare Allora, te la ricordi quella femmina lì? Eh me la ricordo Aspetta, si chiamava Luca, lascia stare Ma dai, nel quartiere la chiamavamo Bancomat Non c'entra Non c'entra Ma inserire che te la dava Non ci interessa a nessuno Ma che cazzo si chiamava quella? Luca, non ci interessa Lascia stare Ha fondato la maratona di New York All'inizio la maratona di New York Era la fila di quelli che andavano a casa sua Come si chiamava quella lì? Luca, non ci interessa adesso È una cosa di altri tempi Ce l'ho! Carla! Che fine ha fatto? Eh? È mia moglie, Luca Carla è mia moglie Vuoi dire ancora qualcosa su mia moglie? Ti diverte parlare di mia moglie? Vuoi dire qualche cosa anche tu? Eh? Paul, i fortunatissimi protagonisti di sta minghia di serie Eh? Volete dire qualche cosa? Paul, di qualche cosa, cazzo! Musica! Esatto, brava Musica, ok E allora io voglio chiamare sul palco un altro amico Elio Sopracciglia a lunghe Sopracciglia a forza Il mio amico Elio Siamo i furbetti del quartierino 15 Ci dilettiamo ad arraffar qualche soldino Abbiamo avuto da bambino un certo Antonio per padrino Speculavamo con i bon dell'argentino Siamo i furbetti del quartierino Uevicin Siamo partiti per scalare il corrierino Con un conto prosciugato Sette banche abbiamo scalato Nello spazio limitato di un mattino Ragazzi, questi c'ho la barca Abiti di barca e vanno al villone Ragazzi, fatevi testare Una villa a mare Siamo i furbetti del quartierino Uevicin Ma bazzichiamo spesso in zona Solferin Se una banca noi vediamo Con un'opa la scaliamo Anton Veneta o il San Paolo di Tri Ragazzi, questi sono forti Rubano anche i morti fuori la Gapier Ragazzi, se li prenderanno Non è un gran metano Mi resta il piede a te Ma purtroppo ci siamo fatti intercettare Ci ha portato a San Vittor col cellulare Siamo stati incastrati da due brutti magistrati Ci è saltata la vacanza alle Caimà Siamo i furbetti Ci hanno deportati A San Vittorio No, 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 no Cada donaggio Per tutto maggio Siamo stati incastrati da due brutti Buonasera Dottor Ingroia Buonasera 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 Senta Dottor Ingroia Ma adesso cosa farà? Perché non può restare senza far niente, no? Un bosso? Eh no No, no Eh, no Qualcosa Eh sì, sì Qualcosa deve fare Eh, allora vuol dire che me ne metterò in movimento Movimento? C'è un movimento Me ne metterò Stavagliando Stavagliando Stupossibilità Sì? Se mi vengono i 15 minuti Posso pure decidere di partire No, no, si dice i 5 minuti Se mi vengono i 5 minuti Sì, lo so, ma è che in 5 minuti non riesco a fare niente Ho capito Ho bisogno di un po' più di Vabbè Comunque Allora torno magari a Palermo a fare Il procuratore aggiunto No, no, no No, no Dottor Ingroia Non può andare a Palermo Perché il CSM ha detto che se lei vuole tornare a fare il magistrato Può farlo Ma in un'unica sede E allora Dove vado? A Catania? No Ecuador? E no Quale era più vicino? Non mi faccia fare tanti scagliere Ad Aosta No Eh sì Eh sì sì No Pensavo a un posto più caldo E no Aosta Non ho ancora disfatti i bagai del Guatemala Non ho capito, ma Ci vengono bene i bagai del Guatemala? No, non credo Perché ad Aosta fa freddino No Eh sì C'ho solo le sciabatte infreddite Vabbè, senta Adesso non è che C'ho la toga con le maniche corte Vabbè Adesso di nuovo Toglio le magliette come maglione Vabbè Cerca la taglia La taglia Sare su una funiviglia Prende la funiviglia Scende la funiviglia Si dice funivia Era giusto Allora Ti rompo l'ide Ah Farò un nuovo Maifisto Si Con un nuovo Movimento Si, ecco Però scusi Ricapitoliamo Dottor Ingroia Perché Diciamo che Le passate elezioni Sono state Un fallimento Per lei Non lo definirei Un fallimento Beh Diciamo che Certo ci sono stati Sbagli Eh Certo Sbagliato questo Eh certo Forse è sbagliato quello Beh sì Forse è sbagliato quelli Sì Forse è sbagliato quell'altro Vabbè sì Ci sono stati anche dei broi Dei? Broi Broi Cosa sono i broi I broi Anche perché I brogli Ah ecco Vostro elettorato Vostro elettorato Risultava 35 per 100 Addirittura E allora cos'è successo? Sono rimasti a casa Perché non c'avevano voglia Ah Certo Ho capito Lei riconosce questa Scheda elettorale? Ma cosa vuol dire? No 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 Cos'è? Cosa fa? Stiamo cercando quello che mi ha votato Abbiamo Abbiamo fatto bene A svegliarci all'alba È bello E Pensavo che fosse più vicino E invece C'è ancora tanto da camminare Qual è? Qual è il portone? Devo consegnare il frigo Via Salaria 1321 Santo Padre 1321 E a che numero è che siamo? Al 23 Santità Perché quando ho letto Sul giornale Che la vedo a Crocetti Non aveva Il frigorifero L'ho chiamata subito E ho detto Che glielo compravo io Una cosa Che ho fatto di cuore Francamente però Non pensavo Di consegnargli Il frigorifero di persona Però l'immagine direi Col frigorifero Sulle spalle Farà il giro del mondo Santità Eh Anch'io non è che scherzo Con Con sto frigo Sono tre ore 76 kg di frigo Sua schiena Quest'ora Non c'è nemmeno Nessuno Per la strada Che ti può dare una mano Scusi Mi hanno trovato il telefono Sì Ecco Glielo appoggio Ecco Sì pronto Sono Francesco A che ora è che passa Il 43 sulla salaria C'è una signorina Che ha finito di lavorare Mi sembra ora Non sa come tornare a cassa Ah grazie Però puoi prendere Grazie E perché Passa tra 15 minuti Ma lei è papà Francesco Sì ma Chiamami pure Francesco Senza papà Chiamami pure Tu come ti chiami Tu Che bello Non c'hai un diminutivo Tipo papà Niet Niet Francesco Francesco Può fare una preghiera Per me Per favore Te giuro Che pregherò Per te Appena posso Il frigo Te lo giuro Che la prima cosa E che Prego per te Non t'appociare così Perché Grazie Posso baciare la mano Francesco Sì attenta Che c'è la maniglia Prego Spassiva Bolshoi Spassiva Bolshoi Ha baciato La maniglia Che ora si è fatta Sono quasi le sette e mezza Santità E a che numero siamo Al 37 Santità E non è male In due ore abbiamo fatto Trecento metri Il Papa Il Papa Il Papa Che belli Che bravi Che belli Ragazzi Grazie Sì Sì Che è il frigo 76 chili È bella La foto Sarebbe stato bello Fare una foto dei ragazzi che aiutano il Papa De consegna del frigo Santità Ho al telefono Quello a cui ha regalato l'Erly Davidson Dice che gli hanno rubato la sella Se potesse averne una con le frange Ma mi dispiace che l'hai rubata Ma che modello era? La 883 Neckhead? Sì Poi diglielo che le abbiamo ordinate Ci parli lei Santità È più bello se sente la sua voce Ma io c'ho il frigo Non vi dimenticate mai Che c'ho il frigo Sulle spalle Glielo tengo io Il frigo? No no Il cellulare Pensavo al frigo Eccolo Mettemelo Glielo tengo qua Ecco Perfetto Ciao dimmi E la sella con le frange Siamo sotto Natale Non le consegnano Non me la passare tua madre adesso Te prego E va bene Passamela C'ho il frigo Mamma Salve Com'è bello sentirla Mi rempe de gioia al cuore Te le spiace se te le chiamo Perché Sì C'ho un frigo Santo padre Cosa fa qui? E sto portando il frigo Ah Noi stiamo andando Alla parrocchia del San Salvatore Che piacere fare un po' di strada insieme Molto volentieri Grazie Tra l'altro il frigo molto pesante Potremmo condividere questo peso No Questo peso è tutto suo È tutto mio Pensavo di dividere Invece Non ci permetteremmo mai No Di interrompere la sua opera Nei confronti della chiesa Santità Lei sta facendo un lavoro meraviglioso Eh sì Lei ha riacceso i cuori dei fedeli Non ce lo chieda Non ve lo chiedo? Non ce lo chieda Eh sì sta male è brutto Abbracciamosi Attento al frigo Ecco Non solo dico che Santità l'immagine del Vaticano era offuscata dagli scandali Eravamo in ginocchio Accecati dall'ingordigia Lontani dai poveri E dalle sofferenze del mondo Eh sì Diciamolo Schiavi del lusso Eh sì C'eravamo persi Ci sentivamo svuotati Svuotati Paralizzati Paralizzati Io sono due settimane che non gioco a tennis Non è possibile Ma vai ancora al circolo di Montevigno Ma no Lì mi hanno chiesto la quota di iscrizione No 3.000 euro l'altro Ma siamo sicuri che la strada giusta questa Santità Ho al telefono Eugenio Scalfari Scalfari adesso? Sì E dili con lo richiamo ti prego No ma è meglio se ci parla subito Così possiamo uscire su Repubblica di domani Santità Il Papa che parla con la sinistra Meraviglioso È bellissimo Meraviglioso Meraviglioso Ma questo qua poi mi attacca un pipone Che non ti dico Mi vuol parlare di quando era al liceo con Calvino Io ve lo dico non consegniamo più eh Glielo passo Glielo passo È qua Ecco Carissimo Eugenio Come stai? Ah che bella questa cosa di Calvino Eugenio E io te lo dico Ho un buco domenica mattina alle 5 Perché dopo devo aggiustare una tapparella a Borgopio Ciao ci risentiamo Ciao Cegno Ciao Grazie Sua Santità Erpava Buongiorno signora Buongiorno Sa per caso Io dove si trova la vedo a Crocetti Sa io No Sì Se questo era quello che avevamo deciso Eh ma è troppo arta oh Troppa roba Ma avevamo presso le misure Eh ma io non c'ho dentro casa C'ho due camminette Non mi c'entra Io vivo proprio stretta Ce lo mette pure sopra il televisore Ma sto mammocchione Non mi ha un filo Dice che è mammocchione E ma il colore è bello però No pure il colore Io c'ho le piastrelle arancioni Non va bene Non va bene Se vuole posso venirle a cambiare le piastrelle Però non me lo faccia riportare indietro Che pezza Anve di questo Anve di questo Te dicono Ti porto per i cali Poi sbagliate pure le misure Senti bello Sa da far papa Mi pare da farlo bene Se no se ne amo quell'altro Non me prende il frigo? No no Proprio non c'è pensato per niente Non lo vivo E rimango col frigo? Faccia come te pare Ciao bello State bene E ma Se allora Non lo prende Dobbiamo Fare la salaria al contrario Il taxi Può andare? No Non lo immaginavo Allora noi Ci giriamo E ci incamminiamo Con la gioia Nel cuore E un frigo Sulle spalle Sapendo Che poteva andare peggio Che poteva chiamare A odi freddi Ah Santità Le suona il telefono Chi è? E lo passa Pronto Pier Giorgio Io avevo scritto Qualche anno fa Due anni fa Un libro Che si chiama Caro Papa Ti scrivo E non lo leggo L'avevo indirizzato A Benedetto XVI Ed è un luogo Ascolta Sulla introduzione Al cristianesimo Giorgio Buonasera Sindaco De Luca Senta Travaglio In questi mesi L'ha L'ha molto attaccata Per le sue vicende Processuali No? In cui lei è coinvolto Travaglio Sì Travaglio 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 Ha No dico Ha fatto un editoriale Travaglio Marco Travaglio Marco Si chiama Marco Coccobello No 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 Con questo sorrisetto Sulla faccia Vabbè ma parliamo invece Personaggetti Personaggetti Gentucola Cialtroneria pura Travaglio Lo vorrei Vede io vorrei Incontrarlo Nel sottoscala di notte No 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 Non è È come un coniglio Dargli la botta finale No 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 Sono gentucola Gentucola Perfetto Personaggetti Io Si risponde alle accuse No? Perché appunto Questi processi Sono In cui lei è coinvolto Sono orgoglioso Dei miei processi È orgoglioso Se qualche reato È stato commesso Era fin di bene Perché quando sono arrivato io Qua Si A Salerno Si Parentesi Travaglio questo Non lo sa Perché è un personaggetto Ma lasci stare il personaggetto Come ho trovato io Salerno Quando è arrivato Non lo so Eravamo al mesozoico No non credo eh Forse lei ha fatto molto Ma Quando sono arrivato io Mi pagavano in conchiglie C'erano individui Credo C'erano individui Con pelli di leopardo Che cacciavano delfini Ma no ma Usando armi fatte Con le asce Ma non Con la selce Ma non c'erano i delfini Guardi Questo travaglio Personaggetto Non lo sa C'erano dei pitoni In giro per le strade Ma non credo guardi Serpeni No è un po' esagerato Era tutta savana Ma non credo Qualcuno addirittura Cacciava i delfini Con i serpeni Ma no guardi Dal cielo piovevano uova Di tiranno sa Sta esagerando Ora invece l'esse va a Salerno Ecco Modestamente Sembra Tokyo Vabbè certo Un po' l'ha migliorata Ci sono giapponesi Che arrivano a Salerno E dicono Oddio Abbiamo fatto il giro Della terra E siamo tornati al punto Di partenza Un po' esagerata questa No però Senta sindaco No le volevo chiedere una cosa Allora Secondo la legge Severino Lei non è eleggibile No? Severino Sì Severino Ha sorrisetto Ma non ha sorrisetto La Severino Quella è la travaglia Personaggetti Ma no La signorina Severino Sì Che io stimo molto Venisse a Salerno Nel rione Patricalà Vabbè ma non lo conosciamo Nel tratto Che va da via Marino Paglia A via De Granita Ma non la conosciamo tanto Sono 50 metri Lì avevo fatto mettere Una ringhieretta Con i fiorellini Se la sono fottuta Ho capito Però noi volevamo Sti minorati psichici Per farci una porta da calcio Sì no vabbè Però è una brutta cosa Però non c'entra Sti quattro affannati mentali Va bene Ma volevo parlare Della Severino Loro ma soprattutto Le ragazze Che si innamorano Di questi qua Quara qua Che si fottono Le ringhierette Ma non importa Le ringhierette Adesso Io mi rivolgo Alle ragazze Non fidanzatevi Con questi animali Ma sì Bestie Ho capito Pezzi di caffoni Ma lasci stare Sì Però no Io volevo parlare appunto Della Della questione Della sua ineleggibilità E degli suoi impresentabili Perché Labindi Oggi ha detto Che farà vagliare Dall'antimafia Dei curricula Degli impresentabili Gli impresentabili Io volevo dire Labindi Sì Che stimo molto Che stima Certo rispetto C'è quel sorrisetto Non ce l'ha sorrisetto Non è che tutti quelli Che stimo e rispetto Lei forse ancora Non sa come era Salerno Ma sì ma non Prima che arrivassi io A Seno Sì era peggiore Sicuramente C'era un tripudio di morti Ma non è vero Pezzi di cadavere Agli angoli delle strade Delfini morti Appesi ai muri Come sacrificio a misteriosi Dei pagani Ma no Diciamo Ma guarda Lei l'ha migliorata Se è arrivata la penicilina Salerno E grazie a me Non credo Non credo Sindaco Lei l'ha molto migliorata Sicuramente Ma adesso non La lavatrice L'ho portata io L'ha portata lei Il cavetto USB Per collegare il telefonino Al computer L'ho portata lei Sì E come un prometeo Moderno Che donna il fuoco Ai mortali Io ho donato Ai salernitani Il fond Ma non credo Io comunque E nonostante tutto questo Purtroppo C'è ancora un 10% Di cittadini Che non si è voluto Diciamo Luridi rimasugli Di una civiltà primitiva Imbecilli Perfetto Sono quelli che Che rimpiangono La salerno Degli anni 70 Dove si divoravano Carcasse di animali Per le strade E si moriva Di go Ma la c'è Per perdere Se lei vada Via Cispiani A Via Possetti Saranno 30 metri 35 al mare Non la conosciamo C'è una fontanella Che zampillava Ci hanno messo una gomma Da masticare Questi animali Non zampilla più Questi affannati mentali Hanno deviato l'acqua Se la sono portata A casa loro E la scaldano Bruciando la panchina Che stava vicino Alla fontanella Ho capito Imbecino Va bene Ma noi vorremmo sapere Delle sue Se lei pensa Che in piazza Casalbore Ma lasci stare la piazza Casalbore Tanto non tutti conoscono Salerno In piazza Gli impresentabili Andrea Salone Eccoci qua Cross Italia Live Eccoci qui Io ho un compito Lo sapete Io devo parlare bene Di Berlusconi Ma non ce la faccio Non ce la sto facendo Giannino No però No Non mi dica così Perché io adesso Io so Che adesso Una persona mi aiuterà Qua Oscar Giannino Ormai dichiarato Il suo orientamento politico Dopo la tarantella Del centrodestra Sarà qui Per dire la sua Sulla crisi della sinistra Signore e signori Checco Zalone Grazie Oh Eccolo qua Ciao bello Checco Zalone Ciao Uomo Dichiaratamente Di destra Oh Io voglio chiedere Scusami Quando è che hai maturato L'idea Quando è che ti è iniziata Questa militanza Cioè quando è che hai capito Che la tua coscienza politica Era di centrodestra L'ora precisa Non me la ricordo Però è stato martedì scorso Quando mi hai chiamato Mi hai detto di venire qui A parlare bene di centrodestra Dietro corrispettivi Cinque mila euro In quel momento Mi sono sentito Di centrodestra Vabbè Già avevo una tendenza Dicendo questo No No Scusami Zalone Secondo te Qual è il principale difetto Della sinistra? L'incapibilità La Cioè l'incapacità Di essere capibile Cioè ti spiego Io ma non solo io Tutti i popoli della libertà Quando la gente di sinistra Parlano Non è che noi non siamo d'accordo Non ci capiamo un cazzo Perché parlate Difficili Perché tutta questa intelligenza Di sinistra Fa discorsi di micchia Si rivolge A un pubblico di micchia In reti televisive Di micchia In trasmissione di micchia Come questa 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 secondo me Io non ti voglio offendere Perché Mai pur pagato Non ti voglio offendere Non si sputa nel piatto Che si mangia Però Questo è un programma di micchia E tu sei Sei un conduttore di micchia Hai fatto proprio una scena E la micchia ragazzi Non vi porta da nessuna parte Questa È la mia analisi Quindi tu non sei Un telespettatore Affezionato alla sette Mi fa di capire Come? No? No dico Non sei affezionato alla sette No non è che non so Io non me la cago proprio Che è diverso Cioè per farvi capire Il mio rapporto Con questa rete Io ce l'ho sul L'ho memorizzato Sul 39 Dopo Dopo Tele Molise Tele Lombardia Magic America E poi tenga la sette E la quarto Quando Maurizio Paradiso Va in pubblicità In quel momento Colgo il perché Non funziona il tasto Del telecomando Allora Devo spingere più Grazie Ma comunque Non è che vuoi spuntare Su questo piatto No assolutamente Io non mi permetto Non mi avete pagato No 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 Sì ho capito Cioè però Prima non ci conoscevi Cioè ci conosci da poco Io Guarda La mia ragazza Mi ha chiamato Ma ho detto Dove stai Da Maurizio Crozza Ha fatto Ah già che stai Prendi due mozzarella Pensavo Che era Quello dei latticini Dal paese Chiava Maurizio Crozza No no Giannino ride No però Giannino no Voglio dire Però Stavano più belli Al centro adesso Ci sono però Dei programmi interessanti Su questa rete C'è Omnibus Infedele Sono approfondimenti Interessanti Maurizio Scusa Io Da popolo Dalla libertà Se io La mattina Dove iniziare Guardando Come si chiama Omnibus Non si capisce Una mazza Peggio di Zichi Che quell'altro Prima Niente Cioè Dove iniziare Sentendomi frustato Di non aver capito Oppure Dove iniziare Con Barbara Dursa Alle sette e mezza Mi faccio una bugnetta Che sto bene Per tutta la giornata Perché Adesso c'è la gnocca Questa è la verità E Adesso sono serio Secondo me Le ragioni del fallimento Dell'ideologia comunista Dipendono proprio da questo Dalla manganza Dalla gnocca Se non capisce Lo diceva Freud La gnocca parte tutto Da là E' lì che dovete Punto Prego Lascia stare Stai bestemmiando Il comunismo Poggia su valori Come l'uguaglianza L'equità La giustizia sociale La solidarietà Io appoggio Su altri Maurizio Il discorso che Siamo seri Non voglio parlare male No ma stiamo parlando Di valori Seri Veri Come l'onestà La solidarietà Io ho L'ottimismo Il valore di cui Tu nelle situazioni drammatiche Devi trovare l'ottimismo Se tu non trovi Tu devi avere Una specie Vieni al Schioppa Ha detto Che dovevamo pagare le tasse Le tasse Ma tu devi trovare Dentro di te Come una benestronica Che devi cambiare Proprio totalmente E devi essere ottimista Perché Non ce la faccio Ma perché Non ce la faccio Non riesco ad essere ottimista Perché c'è crisi Dove sta C'è gente che soffre Dove sta questa crisi Perché c'è ovunque Guarda Lui è un turnista No No L'ottimismo Lo sai dov'è Esatto Meno male Che non è a me Lui è un turnista Lui è un farlegname Già da una vita Non ha la pensione C'è solo tre dita L'ottimismo Sai dove sta Che degli altri diti Che se ne fa Basta due Oh Lui è un muratore Lassù sul ponteggio Rischia le gambe Ma rischia anche peggio Sicurezza aperte Non c'è Meno male Che caschi te Ripeti insieme a me Ripeti insieme a me Provisci Meno male Che caschi te L'è un'infermiera Lavora coi vecchi Pulisce la merda Le spalla dei secchi Fa le notti Smonta le sei Meno male Che lo fa lei Provisci anche tu Che non ti so tra le sei Meno male Che lo fa lei Ti senti un po' di destra? Un po' di destra mi sento Vai con le mani Ora ti faccio sentire anche di più di te Che bella ragazza Lavori al coltende Ma il tuo contratto Non è permanente Però tu Assunta sarai Come? Solamente se me la dai Viva l'Italia Il paro che è Europa Viva l'Italia Che magia che è tua Quanta gente felice c'è Che paese che fa per me E a chi dice che è crisi c'è Dico che me ne porti a me E a chi dice che è crisi c'è Dico che me ne porti a me Mi sento di centrodestra Cazzo Grazie Zalone Bene adesso Mi hai convinto Io mi sento di centrodestra ora Stavo scherzando Eccoci qua Dopo 26 anni Del processo Del lunedì Questa sera Inizia un nuovo programma Qui sul site Che si intitola Il patteggiamento Del martedì Amici Pensate Solo 26 anni Per chiudere Un processo Poi dicono che la giustizia in Italia fa schifo Non è vero amici E' perfetto amici Ma che cos'è Il patteggiamento del martedì amici E' un programma Che cerca di riconciliare il cascio Con la camorra Ecco perché il cascio non è solo mafia amici C'è la criminalità organizzata Ma non sarò solo In questa avventura Che ci porterà dritte dritte E' la regina scena Avrò degli ospiti Escezionale amici Questa sera con noi E' il grande allenatore Arrigo Sacchi Una scena Con straordinaria umiltà E poi come posso Non inchinarmi di fronte Alla penna magica Di Candu Canavan Ma io dico Un meraviglioso Buonasera Ecco amici Adesso l'allenatore Che è andato a Perugia Ha fatto bene È andato a Genova Ha fatto bene È andato l'udinese E l'ha mandato a casa Cerse Cosmi E spaccò la gamba Incredibile amici Cerse Cosmi E infine Doce sul fondo Ma non tanto il fondo Perché ci sapete Emanuele Filiberto Tifusissimo della giuventù Dopotutto Prima di tutto Ecco molto bene amici Siamo stati molto stretti Nei tempi Perché io il tempo Non lo so Perché non ho l'orologio Ma sono sicuro Che stando qui Qualcuno Prima o poi Me lo regala amici Ecco subito Una domanda Che ci darei in pasto I nostri ospiti È questa Il calcio Va rifondato Sì o no Candido Ecco benedetto Il Dio Io voglio ricordare questo Signori Il calcio di una volta È finito È finito Ce lo vogliamo mettere In quella testa Ma il calcio Prima Era vita Oggi Si vuota in borsa Bisogna scegliere O la borsa O la vita Il calcio vecchio È finito Caro gioco Tu lo sai Bisogna inventare regole nuove Ma naturalmente Sono d'accordo Ecco Ma vedi Candido Il calcio è falito Bisogna tornare Allo spirito Reginario del calcio Bisogna Che le famiglie Ritornino nello stadio Ci vogliono le famiglie I Provenzano I Rina Non so Quant'è Che non si vede Al Capone In tribuna Ecco Bisogna Chiamare le cose Con il loro nome Non più Club Ma clan Non più derby Ma faide Non più ammunizioni Ma avvertimenti È straordinario Ma è così È giusto È sacro È santo E se l'arbitro Non ti dà un rigore Perché ci devi telefonare Ma non ci devi telefonare Ci dice Arbitro Arbitro Lo chiami E ci prendi il fremole E ce lo sbricioli In tanti sbriciolamenti E diventa come un cracker È facile Fa quel rumorino È veramente curioso Se posso intervenire Dunque Ma io Dopotutto Prima di tutto Soprattutto Penso che questa cosa Abbia favorito il turismo Voglio dire Prima i turisti Andavano a Torino Solo per la mole Adesso ci vanno anche Per la cupola Soprattutto Mi sembra interessante Noi in Brasile Abbiamo un proverbio Che dice Che vuol dire Nel nome del padre Del figlio E della Gia Gia colpa Gia colpa Gia massima colpa Arrigo Nel cacio C'è ancora religione Non c'è più Ma vedi Zosè No ovviamente Mi chiamo Josè Josè Mi chiamo Sì Esatto Josè Vedi No Josè Brasile Josè 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 Si è cambiato Non è colpa mia Vedi Anzi Cragniotti Musi Tutti devoti a padre Pio Pisa se fossero stati Devoti a satana Che cazzo avrebbero fatto Ecco va bene Ma facciamo un po' d'ordine Candido Scusami Quindi qui mi sembra Che essere devoti a padre Pio Si rischia di andare Se riesce Noi in Brasile Siamo un proverbio Che dice La prima galina che canta Vende molti dischi E così No Scusami No Qui ti devo leggermente contraddire Cioè insomma Chiariamo una cosa Qui va chiarita una cosa Queste intercettazioni Benedetto E Dio Sono intercettazioni Che si fermano Al 2005 Sono intercettazioni Antelietram Cioè la Juve Ha vinto il campionato Oggi Oggi La Juve E' pulita E se è pulita Che si goda Questo scudetto Se lo goda Ma io Candido Ti capisco Sono d'accordo con te E' vero Cioè E' come se tua moglie La fai pedinare Fino al 2005 E lei ti tradisce con tutti Poi Oh Nel 2006 Smetti di farla pedinare E allora Non tromba più con nessuno E' diventata pulita E' una santa Ecco E' vero Sentite Guardi per esempio Signora Taffini Guardi Mia moglie Io non l'ho mai pedinata Ci mettevo le briciole Nella borsa Come pollicino E lei tornava a casa Con 300-400 piccioni Che la seguivano A parte la viaria Però sapevo sempre dove andava Bastava seguire i piccioni Dopotutto Ecco amici Questi erano i nostri ospiti Ospiti straordinari Ospiti che ci hanno illuminato Con loro verbo Amici Ecco Abbiamo capito che Caccio Non era pulito Ecco Noi in Brasile Mi ricordo che c'eravamo Un politico Che si chiamava Craxenio Che era tutto pelato Che una volta in Parlamento Si è assato Ha detto Che non ha rubato Si assi in piedi Oh Non si è assato Nessuno amici Perché noi sapevamo Non abbiamo detto niente Sono stati zitti Non di fermo così Questo qua ha detto Una cosa che è vera Allora se siete d'accordo amici Basta con i sottofugi Basta con l'omertà Adesso facciamo un giro E diciamo tutto quello che sappiamo Via Partiamo Diciamo tutto Vai Dove sono andati Incredibili amici Si sono volatilizzati Proprio è vero che quando Scezzatrè un buccio Zao Se ne vanno a casa Ecco Qui ho finito E prima o poi Comunque lì becco A te Crossa Italia Che figale Madre superiore Ma davvero oggi Viene il presidente Mattarella A trovarci Sì sorella Deve raccontarci I suoi viaggi in Germania Ma è in ritardo No veramente Madre Ma il presidente È sempre in ritardo Sono qui Certe volte lui Non arriva neanche Dice che viene a trovarci Ma poi Non viene mai Sono qui No Sono sempre venuto Eravate voi che non mi vedevate Strano però che oggi sia così in ritardo Provo a segnalare meglio la mia presenza Sono qui Sono qui Sì sorelle Aspettate aspettate Mi è sembrato di sentire un rumore Vai che ci siamo No niente Non c'è Azzardo un avvertimento acustico Ma perché ci fa aspettare così tanto Con tutto quello che ci deve raccontare Niente Non mi si nota Beh sorelle Forse a questo punto non viene più Torniamo a pregare Signore Ti prego Aiutami tu signore Andiamo Grazie signore Grazie Eccolo Presidente ma è molto che è qui No sono appena arrivato Ma che gioia vederla presidente Grazie a Dio è qui Sì anche grazie alla scenografia Come ha dato il video Ma ci racconti presidente Come è andato il suo primo viaggio all'estero È stato bellissimo Non ero mai stato nella stiva di un aereo Come nella stiva presidente Al momento del check in Mi hanno confuso col bagaglio Mi hanno messo questa facetta al polso Mi hanno pesato E poi mi hanno caricato su un rullo In mezzo a decine di altri bagagli Io ero l'unico senza ruote Ho parlato con un trolley della Samsonite Fino a Berlino E com'è Berlino presidente? E che ne so Il tragitto all'aeroporto all'hotel L'ho fatto nel bagagliaio Però la camera d'albergo era bellissima Solo che dopo 5 minuti Sono entrate delle persone Che si sono fatte la doccia E sono messi a dormire Ma perché? Quelli dell'hotel non si erano accorti Che ero arrivato E avevano venduto la stanza A una famiglia di francoforte Io per non disturbare Ho alloggiato dentro un fricopar Ma povero presidente No, ci sono abituato Sono talmente poco notato Che spesso anche la mia ombra Si dimentica di seguirmi Ieri la mia ombra, per esempio Mentre era la conferenza stampa Lei era al cinema a vedere Birdman Sono talmente poco notato Che d'estate posso leggere Con la luce accesa Le finestre aperte Tanto le zanzare non mi pongono Da bambino era Babbo Natale Che non credeva che io esistessi Oh presidente Chissà che fatica A incontrare tutte quelle persone Lei che è così schivo Magari Forse solo schivo Forse per me vivrei Sai dove? In un ripostiglio Delle scoppe Dell'ufficio del Catastro di Atlantide Però ora sono presidente Sto migliorando Presto coraggio Mi sto aprendo Per esempio Ho già preparato il discorso Che farò a capodanno agli italiani Lo volete sentire? Sì Sì Scusate Care italiane Cari italiani Stop Io sto bene così E spero di voi Stop Dai che ce la facciamo Stop Se ci sono novità Mi faccio vivo io Stop Sì C'è ancora qualche barocchismo da limare Ma tanto mancano ancora nove mesi Presidente Mi permetta Ma lei deve trovare più coraggio Sì Presidente Si lasci andare Sì Si aprà al prossimo Sì Si sciolga E sorrida di più Impossibile Anche dal dentista Tengo sempre le labbra chiuse Per curarmi le carie Devono passare dal naso Sapete qual è la novità? Sapete qual è la novità? One Two Three Four Ehi sorelle Sì presidente Che c'è? Beh forse non dovevo fare il presidente della repubblica Nessuno mi nota Ahà Non si deve scoraggiare La fate facile voi Quando devo fare una conferenza stampa Mi sudano talmente le mani Che sul podio al posto dei fogli C'ho il Deumidificatore Non si butti giù così Canti insieme a noi Sì Candiamo Sergio dai non ti cruciare Se non sei notato Peccato Voi sorelle lo vedete dove si è accacciato Sono qui E là Non ti notano ma tu non ci devi far caso Quello è presidente Oh Un sottovaso E per questa trasparenza sai che poi ti han votato Vado io Anche da bambino a me Non mi hanno mai notato Notato Una volta nascondì Non mi han dimenticato Peccato E mi han cercato Con i cani Mi han trovato L'indomani Eppure dall'assù Qualcuno ti ha raccomandato Sì E la mano di prima Sì sì Se tu ti appoggi al muro Poi succede che Arriva l'imbianchino E pittura anche te Pure il corazziere Batte i tacchi e fa Dove matarella Eppure son qua Perché non trovi un cappotto Un po' più colorato C'ho questo solo blu Questo qua Ho un neon con scritto Grande capo dello stato E la puntata scorsa L'ho fatta però Nessuno ti nota Se prendi il tram O guidi in autostrada Contromano Ma non buttarti giù Non essere preoccupato Voi dite sorelle Me lo giurate Perché per te Matteo E Silvio Hanno litigato Ma era solo sul metodo A dirla tutta Sergio E che tu sei un miracolato Me l'ha detto La Merkel faro fare E che tu sei unrichtino Momente für uns alle. Der Euro rischit den Bankrott. Europa konnte kaputt gehen. Aber wenn ich ehrlich sein soll, pfeife ich drauf. So der Euro ist nicht alles im Leben. Vor zwei Wochen habe ich einen Mann kennengelernt. Er heißt Mario. Mario Monti. Oh, nur wie schön es tut, Mario Monti. Ich bin so verknallt. Sei verknallt, proprio. Mario bittet um die Möglichkeit ruhig regieren zu Dorfen. Ich gebe sie ihm, Mario. Ich gebe sie ihm die Möglichkeit für acht Monate ruhig regieren zu Dorfen. Ich habe noch einmal gelernt. Ich habe eine Art von Italien gelernt. Maestro, in Re bemolle, bitte. Ich bin Mario Monti. Ich bin Mario Monti. Ich bin Mario Monti. Ich bin Mario Monti. Du volst tutto. Du, wě ist ein Fanze. Ich bin Mario大. Politicamente ich ber rettet. Ach, 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 ach. Du以овалota來 bist du 피�á dich. Du věcon seusž early in Lancaster mois. – Wja, a Isnä? – Päzeit tief die diese Gründe cardio jeii Sounds. Cara Merkel, cara Merkel, cara Merkel come lo dici tu, i greci meschini questa sera li faccio fallire, a te invece la voglio dare la possibilità di restare dentro l'Europa, così poi ci vediamo. Puoi fare bilaterale, tesoro, 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 nel senso dei buoni te, mi comporti, adoro il tuo essere ghiacciolo, io sono già sposato, marione, 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 riforme soltanto, riforme, riforme tra noi. Prima il povere devo raddrizzare il debito, lo devo raddrizzare, è un debito grosso. Che macio sei, che macio sei, che macio sei. Divento rosso, come i miei conti, cosa vuoi? Basterebbero 600 miliardi. Cambio dai, cosa mi dai, cosa mi dai? Un rialzo in borsa. Ce la fai? Con le pensioni tu puoi osare, chiamami culona dai, mostrami il figlio. Io non me la sento, non me la sento. Cara Merkel, cara Merkel, cara Merkel, dillo ancora dai. Con piacere, cara Merkel. Con passere grilli, finalmente si dorme tranquilli, mentre vorrei con te darmi da fare. Come ti faccio vedere la manovra, che noia manovra, rendo il treno dell'occhio. Mi come una piovra, non precorriamo i tempi. Se vuoi c'è un motel a Ginevra, devo sentire la forza dei conti. Marione, 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 Bibbione, sei rosso col testosterone, vediamoci dai. Devo consultarmi con Napolitano. Marione. State tranquilli, state tranquilli, torna eh. Lui sta solo aspettando che l'attenzione non sia più su Renzi e su Bersani. Ha voluto solo dimostrare che senza di lui il centro-destra non è niente. Torna. Ha già depositato nove nomi probabili del nuovo partito. Ve li faccio vedere. Grande Italia, tutto staccato. Poi, Grande Italia, tutto attaccato. Italia che lavora, staccato. L'Italia che lavora, staccato ma con l'apostofo. Il centro-destra italiano. Il centro-destra italiano, tutto attaccato. Centro-destra italiano. Centro-destra italiano. Con centro-destra attaccato italiano. No, il centro-destra italiano. C'è uno psicologo in sala. Ma che minchia dici, tutto attaccato. Ma che minchia, attaccato e dici, staccato. Ma perché? Ha depositato questi nomi. Dice nel dubbio li attacco, poi li stacco. Dice nel dubbio li attaccato. Che figata. Comunque, volevo dirvi che non sono i nomi veri. E che è ancora un work in progress. Ne stiamo buttando giù a bizzeffe. C'è fermento. Che figata. Stiamo pensando a altri nomi per il partito. Per esempio uno che stiamo prendendo in considerazione è Italia mi è piaciuto, dai rifacciamolo. Tutto attaccato. Poi c'è Italia rasata, staccata. Tanga Italia, tutto attaccato. Movimento su e giù per Italia, tutto molto attaccato. Ma quello che sta infiammando me e tutti quelli del movimento è Italia girati. Ecco, c'era... Che figata. C'era un partito... C'era un partito nuovo, con uno stile nuovo. Un inno nuovo che guarderà ai giovani. L'inno si intitolerà Opla Silvio Style. Opla Silvio Style. Silvio Style. Tutti lo sai, mi dico con forza, vecchia roccia. Che tipo di valori tu potresti essere dalla sacoccia. Il solito trantran di sesso, questa è poi la doccia. E anche il piti e la scoccia. Lo sapete che? Pure il panno e la meloni vogliono far da sé. Che vuole fare le primarie anche la salta. Che? Alle elezioni, ma che buco in tocca, capito che? Capito che? Voto meglio Essere me stesso, senza voi. Lo sai o no? Sono stupo di un partito. Mi avvolto. Ehi! Ti piace o no? Ehi! Per te rimane con Crosetto, ma perché? Ehi! 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 Cascini! Oh, 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 oh. La Silvio Stato. Ehi! 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 Con Ghedini! Oh, 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 oh. Ho chiesto il quarto grado per soluzioni a pioggia. Se ballo in questo modo ogni giovane mi appoggia. Vestito da Tamaro si potrebbe dire a Renzi slocia E poi anche Grillo taccia Io sto meglio senza avere intorno a voi Lo sai o no? Mi notiamo finalmente così poi Ti piace o no? Torno a farlo della vita sai chi c'è? Opla Silvio Stein Io sto molto vicino al rispermitore Sono così vicino che stasera c'ho qua un rispermitore Eccolo qua il rispermitore Lei si chiama? Federico Spartaglia Bostici Tra i miei amici Antonella Vedete che il rispermitore è un po' confuso Federico Antonella non sa neanche bene come si chiama, è vero? Bisogna schiarire le idee a questo rispermitore E con cosa gli schiariamo queste idee a vecchio rispermitore? No, no Eccola, buona vecchia tromba d'astadio Ma non fa niente Come sono adesso? Adesso sono più schiarite le idee rispermitore? Non tanto Non tanto per forza perché tu hai investito nei tecnologici No Non hai investito nei tecnologici? Ho comprato questo telefonino nuovo Ah beh, questo telefonino nuovo è bello, molto bello questo qui 800 euro Ah peccato, vedi? 800 euro Perché che cosa è successo ai tecnologici nell'ultimo periodo? Che cosa è successo? Sono andati molto su Molto su? Sono andati su? Molto su? Di bene, sono andati dove Antonella? Molto su? Sono andati su, su? Molto su, su, su? Eh no, 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 poi improvvisamente si sono... No, no, no Sono precipitati Hanno fatto proprio un vero crack Ah sì? Vuoi sentire il crack? No, non voglio sentirlo E sentiamolo Eccolo qua Che sono andati giù, molto giù Peccato, peccato Purtroppo, purtroppo succede che l'economia certe volte ristagna E quando ristagna E quando ristagna il pil C'è la diminuzione del pil Perché ti infili i guanti, Ale? Ma perché te lo faccio vedere subito, cara Antonella Quando c'è la diminuzione del pil Sì, dico, no, dico Io dico, quando c'è la diminuzione del pil Perché tu c'hai molto pil qua dietro, lo sapevi? Ah, c'ho tanto Eh sì, molto Quando c'è la diminuzione del pil Che cosa fa il risparmiatore? Urla Bravo Ecco qua, vedete? Mamma mia, che schifo Ecco, allora, caro risparmiatore Purtroppo l'economia ristagna Questo made in Italy Vogliamo farlo ripartire Questo made in Italy E facciamolo ripartire E facciamolo ripartire La Fiat Vogliamo farlo ripartire? E certo E come la facciamo ripartire, la Fiat? Con una spinta Con una spinta, se fosse in discesa Ma purtroppo la Fiat è in salita Quindi la facciamo ripartire con? Con? Con cosa la facciamo ripartire? No, no, con i cavetti, no Sì, con i cavetti, naturalmente No, no, no No, con i cavetti, no Riferisci con il fiscale? E certo, vediamolo Vediamolo I cavetti! E te la vogliono i cavetti? Su, dica i cavetti Facciamola ripartire Con i cavetti, vedete? Il risparmiatore sta facendo ripartire Ecco la mia, basta! Ecco, il risparmiatore adesso è confuso È spaventato Noi non rivolgiamo con la buona tromba da stadio Ecco, il risparmiatore A questo punto non ci resta a fare altro Dei buoni investimenti Un investimento intelligente Lo vogliamo fare? Un investimento intelligente? E facciamolo! Sì, però stai calmo, il risparmiatore Perché questa aggressività è ingiustificata Il risparmiatore, hai del grano, dei soldi? Poco! 8.000 euro! Ah, penso, poco! E come ti sei guadagnati questi qui? E li ho guadagnati? Certo, ricordiamo che lei si chiama Antonella Fate un salto a trovarla in circonvalazione Mi farà stare molto bene, Antonella Ecco, allora, questi soldi ce li dai a me Che io li investo nel mercato Perché è un mercato molto cattivo Sai, nei tuoi confronti? Il mercato ti tratta pesci in faccia Ah, sì? Il mercato è terribile Ti tratta pesci in faccia Ma come può il mercato trattarmi a pesci in faccia? Come può uno scoglio arginare al mare? Sì, certo Ti faccio vedere io come può I pesci in faccia No, ma sai cos'è? Che purtroppo il mercato Queste sono acciughe freschissime No, no, no Ti piace il sushi? Un po' di sushi ti piace? Il mercato non sa bene cosa fare Non c'è questo mercato! Se dipendessi dal mercato Siamo avanti dopo domani Per i giorni Bene, ma a questo punto Il mercato Io dico a voi studi Grazie Il mercato è impietoso Grazie mille Salve, benvenuti a Report Il settimanale d'inchiesta Che smaschera gli sprechi Questa sera parleremo di sanità Indagheremo sul pianeta salute Un tema molto controverso Quali sono i veri sprechi della sanità? Forse gli ospedali costruiti E mai inaugurati? Forse i 24 milioni di vaccini Anti-influenzali inutili? Forse i poggiolini? Può darsi I vari tarantini? Eh va bene Mettetecene quanti ne volete E se fosse più semplicemente Colpa dei cittadini Che Si ostinano ad ammalarsi Noi di Report Siamo andati ad indagare E abbiamo scoperto il caso Di Paolo Bandini Operaio di 37 anni Che a causa della sua imperizia Ha perso 5 dita al tornio Ma si può Guardi io non so com'è successo Io stavo modellando un tondino E a un certo punto Il tornio è partito prima E mi ha staccato 5 dita E il tondino si è danneggiato? Ma che ne so del tondino? Pare io in quel momento Pensavo al tondino? Eh sì In un momento così Si può pensare Anche al tondino E quest'uomo Ha pensato solo A se stesso E al bene dell'azienda Che ha perso un tondino Non ci ha pensato nessuno? Comunque devo ringraziare i medici Perché hanno fatto un intervento perfetto Cioè mi sono svegliato dall'anestesia Che io avevo di nuovo le dita come prima Insomma Certo non potrò più usare il tornio Avete sentito? Riascoltiamolo Certo non potrò più usare il tornio Avete sentito? Bene Ha detto proprio così Non potrà più usare il tornio E allora noi di Report Vi chiediamo Perché riattaccare la mano a un tornitore Se non può più usare il tornio Se lo usa solo per bere il caffè Tanto vale montargli un uncino Che tra l'altro per girare il caffè È perfetto Ma il bello deve ancora venire Sentite cosa ha detto quest'uomo Quando credeva di non essere ripreso Ma per fortuna che non ha sentito niente Guarda Perché insomma hanno fatto una bella anestesia È stato lo staff Complimenti Lo staff di anestesisti Sono stati 3-4 Noi di Report ci siamo chiesti Ma per riattaccare 5 dita Era proprio necessaria l'anestesia? Mio nonno ha fatto la guerra Gli hanno sparato nei piedi E poi ha camminato per 200 km E non si è mai lamentato di nulla Ma cosa ne pensa la gente? Abbiamo raccolto le voci dell'uomo della strada Senza tagli Senza montaggi Senza censure L'amore vince Sempre Sull'odio E sulla Invidia Prodi Ha un testone enorme Ed è tutta colpa sua Se il paese è in ginocchio E viva la figa Per non parlare di mafia Che è tutta colpa di Di Pietro Ma chiudiamo Come di consueto Con una buona notizia Sicuramente Ricorderete tutti Il caso Della Spavaldi Chef International La sconosciuta azienda Di Cosenza Che a sorpresa Ha vinto l'appalto Della ristorazione Sulle ferrovie tedesche Abbiamo rintracciato Il cavalier Spavaldi Per ascoltare La sua testimonianza Su questa Sua coraggiosa Iniziativa 620 milioni di euro Di appalto Come ci siete riusciti? Che domanda Con nostro stile Abbiamo corrotto Mezza Germania Ecco Questo è il made in Italy Questa è l'Italia Efficiente Che ci piace Esportare nel mondo Ed ora Un'ultima buona notizia Ne abbiamo appena parlato E già la Spavaldi Chef International Ci ha fatto avere Un bel bonifico Non ci resta Che chiudere qui E ringraziarvi In sovraimpressione Passerà L'Iban E per chi volesse Fare come la ditta Spavaldi Noi Gliene saremo Eternamente Grati Senta Marchione Oggi Lei proprio oggi Ha dichiarato Che in realtà Il 70% Dei vostri utili Li fate dalla Chrysler Dove? La Chrysler Non sa dire nemmeno Chrysler No In Italia Non sa dire nemmeno Chrysler No ma adesso lasci stare Io ho sbagliato No non ce l'ho con lei Non è una persona No appunto Ho detto magari La Chrysler Non sappiamo parlare No? Ma è una macchina strana La Chrysler Un problema No vabbè No ma per dire Come funziona questo paese Ma lasci stare questo paese Io sono sbagliato a dire Chrysler No ma lasci stare Guardi veramente Capito No no ma Lei La Chrysler Guardi Non è che se ho sbagliato A dire Chrysler No ma per dire Non è che L'America Ho comprato La Chrysler No no Che cosa Possiamo La Chrysler No no Sì ho capito No va bene Ma Eh sapere che io no Eh parliamo invece di questo dato Perché il 70% lei lo fa Con la Chrysler In America Con la Chrysler Esatto in America Ma lo sai quanto guadagno io Con una panda In Polonia Quanto guadagno per ogni panda Non lo so Ma immagino tanto Una panda Non so quante migliaia di euro costa 100 euro 100 euro La panda Ma come ogni panda 100 euro Qui si che La panda Ecco qua Ma è pochissimo Scusi Ma Sa quante panda devo vendere Per fare il mio stipendio Eh immagino 45 mila Eh appunto Tanto Ma non voglio che mi si dica grazie per questo Vabbè ma guardi Tanto nessuno la ringrazia Per il suo stipendio Ma nemmeno che Però quelli della FIOM No No ma Di notte Si Mi ingessino i gomiti No Ma si figurissi Quelli della FIOM Ma da fare la doccia Col passo del giaguano No ma guardi Non credo No ma no Non credo che la FIOM Faccia gli scherzi Ah guardi la FIOM Sappiamo No ma guardi Il 77% Si No Degli utili di Fiat Viene da casa Eh sì 99% degli scherzi Viene dalla FIOM Ma no guardi La FIOM non fa gli scherzi Lo sappiamo che lei ce l'ha Ma non fa gli scherzi No guardi la FIOM Lei non sa dove può arrivare no Ma guardi Una volta ho messo la macchina Eh Sì In un posteggio Bianco Eh È arrivato il furgoncino della FIOM Eh Della FIOM Con gente vestita da drag queen No ma guardi Non credo che la FIOM Ha preso la belliccia gialla Ma ha fatto il simbolo Degli handicapati intorno No Non credo Guardi È arrivato il BG E mi ha dato 200 No ma Multe Non credo che la FIOM Di handicapati Lasci stare Non credo che la FIOM Abbia tempo di fare gli scherzi No Un'altra volta Eh Un'estate Sono tornato da Detroit Sì Sì perché lei va spesso Perché io Lavoro a Detroit No? Sì Lo sappiamo Io Torno no? Sì Torna spesso Sono tornato di notte Sì D'agosto D'agosto Ero so tired Stanco 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 Torno Sbadigliavo No? Sì Vabbè sì Sono arrivato alla mia macchina Agosto Sabato Sì Sabato Due di notte Anche se salta qualche dettaglio Ho preso la macchina La mia FIAT Non funzionava l'aria condizionata Vabbè Questo già Ho tirato giù il vetro Sbadigliavo Sì Sabato Discoteca C'è posti di blocco Sì Stavo guidando E proprio mentre sbadigliavo Si è avvicinato Il fulgoncino Della FIAT Della FIOM Della FIOM C'era Landini Mano Guardio C'era vestito da Robin Hood Non credo che avvieno Che mentre sbadigliavo Mi ha tirato con la fionda Dei boeri a rubi in bocca C'era posto di blocco Mi ha fermato Mi ha detto Paloncino Guardi che non bello Mi hanno arrestato No Care italiane Cari italiani E' con viva E' liberante Soddisfazione Che il Presidente Della Repubblica Comunica Che dopo il consueto Discorso Di fine anno Alla nazione Rassegnerà le sue dimissioni Ho Già Il testo Del discorso Vi anticipo Il finale Buon anno Buone feste E mo Sono tutti Ca Passiamo i toni Vostri E no Caro corazziere uno Quando ci vuole Ci vuole Io glielo avevo detto Vi do 18 mesi Per fare le riforme Io non ce la faccio più A stare qui Io sono anziano Hai capito? Te lo ricordi Che eravamo già sulla Spider Che stavamo andando a Capri Ci hanno richiamato Guarda com'ero Guarda com'ero Garulo E felice Felice Garulo Garulo E felice Mo'i 18 mesi Mi sono passati E sai dove vado? Dove? In Valbadia Lontan dalla Madia Faccio un salto giù a Circeo Alla faccia di Matteo E poi giù giù Fino a Salerno Che non veda più il governo No Chi ha detto no? Non può presidente In molti chiedono che lei rimanga Anche il Financial Time Teme le sue dimissioni Eccolo Il Financial Time Siete le mie dimissioni? Napolitano stands tall among Italy's selfish politicians Sono inglesista Traduco Napolitano si taglia Si staglia Tra l'egoismo Dei politici italiani Accidenti Che sberla di titolo E' buono Neanche mica C'ha dei titoli così Senti cosa dice Un'istituzione Emerge Con la sua reputazione Intatta Da questo lungo periodo Di incompetenza Corruzione E declino Sto parlando Della presidenza Della Repubblica Scusa Corrizione No ma no Ma non deve scusarsi E' una cosa molto bella No non è commozione Corrizione Sconforto Ma è mai possibile Che tutto dipenda da me Ma c'è Renzi Ma non può pensarci Renzi Ma che fa Renzi Renzi le chiede di restare A me Restare a me Sì Ma scusa un po' Ma Renzi Non era quello che doveva Rottamare tutti Io ho 90 anni Renzi Io c'ho 90 anni Io non ce la faccio più Io mollo Io sono pieno di acciacchi Acciacchini Acciacchetti Piccoli acciacchi Che crescono Guarda il dito Cosa? E' a scatto Ha perso elasticità E' come Giovanardi Guarda qui Guarda dove mi siedo io Guarda dove devo sederlo Hai capito? E poi c'ho Digercels Alcacerts E la spirinetta Per il cuore C'ho tutto Hai capito? Ma lo sai corazziere Quante volte mi alzo di notte No Tante quanti governi Ha cambiato la nostra repubblica E questo record Vorrei lasciarlo ad altri Io me ne vado Ma non glielo permetteranno Presidente Ah no? Ah no? Ah no? Vorrei vedere Renzi A 90 anni Con gli acciacchi Che c'ho io Cosa ho detto? Che vorrebbe vedere Renzi A 90 anni Sì esatto Bravo corazziere Mi piacerebbe proprio Vedere Renzi A 90 anni Cosa fa? Lo so io Devo chiamare un amico Un amico mio Speriamo che risponda Alla meno 45 Diviso Al riporto Di fratto Tendente infinito Col due Rispondi Chi sarà quest'ora? Pronto? Con chi parlo? Pronto Antonino Sono Giorgio Napoli Niente popò di meno Che il Presidente della Repubblica Ciao Giorgio Come stai? Ti ho disturbato? No 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 Stavo pensando ai buchi neri Galassi Spazio tempo Teoria delle stringhe E com'è la teoria delle stringhe? Pensa alla teoria delle stringhe Che alla fine nella scarpa Te li trovi sempre con un laccetto Più corto dell'altro E questa è scienza No questa è stupidità Che potremmo comprarci tutti in buon cassini Dimmi cosa posso fare per te Giorgetto? Scusami Mi sembra che Einstein Quando parlava della teoria della relatività Usava come esempio il paradosso dei gemelli È vero? I gemelli Pensate Voi prendete due gemelli perfettamente identici Uno lo mandi su un buco nero per sette ore Uno lo tiene sulla terra Quello che è rimasto sulla terra Per lui sono passati 45 anni Quello che è il buco nero Sono passati sette ore Pensa alla scienza Ecco ma se io volessi visitare un buco nero Dove lo trovo un buco nero? Ecco hai due possibilità O guardi i bilanci dello Stato Che li trovi un buco nero mostruoso Lo so Che fa ridere questa O poi ti fai sparare dal mio amico Fracovac Nel buco nero di Andromeda Hai mica il numero di Fracovac? Sì certo che ce l'ho Sì Segna 0,2 Pi greco pi greco Ah grazie Adesso scusami Mi devo provare a entrare nella quarta dimensione Io ho la quinta di pantalone Ma mia moglie mi ha voluto prendere la quarta Questa è scienza No E testarda che mi vuole più magro Ciao Giorgio Grazie Grazie Antonino Ciao Ho capito Ho capito io cosa devo fare Lo turco Lo turco Eccomi preside Lo turco Fa i bagagli si parte E per dove? Per lo spazio Ma no ma lei nello spazio alla sua età preside Mi puoi mandare all'ospizio? Io invece voglio andare nello spazio No ma no Ma lei però come ci andiamo preside nello spazio? Con gli effetti speciali Eh? Gli effetti speciali Ricorda che noi siamo in uno sketch Noi apparteniamo al mondo della fantasia Siamo personaggi Il mondo della fantasia Possiamo fare tutto Per questo che Napolitano non mi ha mai denunciato Hai capito? E speriamo che non lo faccia neanche questa volta E' vero presidente Adesso io schiaccio Vieni con me Adesso vieni qua lo turco Posso? Corassiere voi allontanatevi Potrebbe essere pericoloso per voi Lasciateci A me e allo turco Eroi Eroi Lasciateci Vedi questo brusante rosso? Non è niente La ciccia qua Bene Adesso io lo schiaccio Questo bottone rosso Che mi ha fatto Alice della scenografia E lì troviamo un buco nero Sei pronto? Sì? Via Che bello presidente Hai visto quanto è brava la paola della grafica Mamma mia Presidente Ma quanto manca il buco nero? E che ne so Bisognerebbe chiedere a qualcuno Presidente Presidente Eccolo Mamma mia Quanto è bello lo turco Presidente Sembra il tunnel sotto Mergellina Ma più grande Mamma mia Come sei provinciale lo turco Ma come fai? Siamo sulla galassia di Andromeda E tutti di fuori Mergellina Mamma mia Quanto è passato lo turco? Sette ore presidente Sette ore è buono eh È buono presidente Certo che è buono Guarda che sette ore passate qua Sono quarant'anni passati sulla terra E mo dobbiamo tornare Hai capito? Ci infiliamo nel buco nero E torniamo sulla terra E come facciamo? Oh Ti ho detto che c'è la paola Della grafica E quella fa l'effetto speciale Tu devi solo con viva e vibrante Soddisfazione Fare l'effetto del buco nero Ti muovi un po' così Hai capito? 3 2 1 Via Ma dove si è? Dov'è? Siamo tornati Sulla terra Quirinale Dolce Quirinale Oh mamma mia presidente Questi chi sono? Oh mamma mia Lo turco E questi chi sono? Presidente ma questo l'ho detto io Capito? Non mi posso stupire pure io Conviva e vibrante Soddisfazione Ricordati che io sono il tuo presidente E se vedo gente con la ragnatele Mi spavento pure io Capito? Permissione presidente Eh lo so E questi sono il corazzire 1 E il corazzire 2 Io te l'avevo detto Che siamo rimasti uguali Ma loro sono invecchiati di 40 anni Lo turco Mamma mia Come stai corazzire 1? Eh? È sordo È diventato sordo Corazzire 1 Chi governa adesso il paese? Corazzire 1? Eh? Mamma mia Come è invecchiato male Devono essere stati anni infernali Poverini Eccoli Eccoli cosa? I giornali Ha capito i giornali Mamma mia E vabbè Vediamoli Facciamoci largo Tra Mamma mia Che ragnatele Come sono state fatte bene Mamma mia E ho capito E non riesco a passare Lo turco Qui siamo in ragnatele Mamma mia E che è questo qua? Corriere della sera del 2054 14 novembre Renzi e Berlusconi Senza Napolitano Non c'è l'intesa Ma come non c'è l'intesa? Ma Berlusconi è ancora vivo Ma chi le è peggio da sbrodolata d'olio sulla camicia? Non va mai via Mamma mia Repubblica Avistato Napolitano vicino a Saturno Scende lo spread Lo credo Stallo sulla legge elettorale in attesa di Napolitano Ma che? Ma che hanno fatto tutto sto tempo? Ma è possibile che se non ci sto io Questi non sanno fare niente Mamma mia Corazia 2 Vai ad aprire per cortesia Vai ad aprire Sbrigati Lo turco Mamma mia Cerca di togliere un po' di ragnatele Chi se non riesce ad andare via La ragnatele lo blocca Siamo bloccati dalle ragnatele lo turco Caro presidente Meno male che è tornato E lei chi è? Buon uomo Non mi ha riconosciuto Il futuro è già domani Non fermare il cambiamento Del fermare Del dire Il programmare Sì tu Anche a 80 anni Spari ste strunzate Sì E ci credono ancora Scusa Renzi Ma chi è adesso Il presidente della repubblica Fonviva e vibrante Domani c'è la novecentomillesima votazione Abbiamo già trombato Il nipote di Prodi La nipote della Finocchiano Mamma mia Il nipote di Rototà Mamma mia Guarda come ha brutto Il nipote Lo turco E come qua Si torna su Come è? Si Chiamo Paola della Grafica Bravi Mi stavo già muovendo Chiamo Paola della Grafica Paola Via Che pace Che tranquillità Che viva e vibrante Soddisfazione Quando ci fermiamo qui Preside? Un mesetto Lo turco Ma sulla terra sono 300 anni E nel frattempo E nel frattempo Speriamo che la tettonica Zolle Ci sovrapponga La Svizzera Così diventiamo Svizzere Mamma mia Lo turco Eh? Biscottino Subito Preside Piano 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 Disgraziato No Ma guarda mia Tutti i biscottini Mamma mia Come l'apre Male Dispiace Preside Valetto Tu Quella la crema Guarda Già su Saturno Buonasera E benvenuti Alla nuova Maratona Televisiva Guardi Mi chiedo un attimo Sotto a parcheggiare la macchina Perché l'ho lasciata in seconda Pina Un minuto Ho la maratona Televisiva Grazie dottor Ah se dovessi piangere Basta che gli canta la canzoncina E fatta Ma che canzoncina La maratona Televisiva Scusate Amici Ascoltatori Un bambino Evidentemente C'è da spostare la macchina Noi abbiamo una maratona Televisiva Sulla notizia Che sposterà L'asse Che tiene Il governo Infatti è proprio Di assi Che parliamo Perché il ministro Madia ha ordinato La sostituzione Di 12 assi Del water Della sede Del suo ministero D'altronde si sa Che la Madia Fa parte del gabinetto Di Matteo Renzi Battutaccia Che non ha Suscitato Ilarità Nel pargolo Ma più che altro Si sta lamentando Inizia a piangere Sarchioni Scusa Sei in collegamento Sì direttore Mi puoi dare Un aiutino Cosa posso fare Con il bambino Che mi piange No direttore Ma è suo figlio Ma no Ma chi ha tempo Di fare figli Con queste Maratone Televisive Che è passata Una signora Mi ha messo Evidentemente Questo bambino In braccio Ma direttore Come è possibile Come è possibile Sarchioni Ti ricordo Che questo Non è un TG È più Narnia Ma sì Può succedere Di tutto Evidentemente Puoi suggerirmi Una canzoncina Per farlo smettere Sarchioni Direttore Provi con una Ninna nanna La ninna nanna Eh sì Tipo Ninna nanna Ninna A e E a o E questo Bambino Evidentemente A chi lo do Lo daremo Alla Sarchioni Che ce lo toglie Dai E a Ma che gli ha Piagna creatura Ma che gli ha fatto Ma stava facendo La maratona Sarchioni Sì Viene tesoro Una mosnevia Da storpo Brutto Brutto cattivo E Orco Sarà Lei e Sua Sorella Sarchioni Già che siamo collegati Qualche notizia Su queste celeberrime Tavole Che sta cambiando Il ministro Madia Beh altro che notizia Direttore Ho uno scoop in esclusiva Ah vai Sarchioni Vai Sì a quanto pare Il nostro ministro Madia Sì Scusate È entrato il signore Con impermeabile Sarchioni 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 Avevi detto Del ministro Madia Scusate La Sarchioni È rimasta Evidentemente Ipnotizzata Sarchioni C'è qualcosa Che l'ha colpita Evidentemente Qualcosa Di grosso Battuta Naturalmente Un caso Del genere Io Scusate Torniamo in studio Per cortesia Usciamo da questa Unpass Perché C'è un video Della conferenza Stampa Congiunta Della Madia E Del ministro Padoano Vai col firmato Regia Ah non c'è il firmato Mi dicono che c'è un'altra Cosa che si è inventata La regia Vedete voi Vai Dammi i soldi Dammi i soldi Scusi Ecco gli sghei Eh Non è brutta La cosa Che si è inventata La regia Un'idea Ci sta L'unica cosa È che in casi come questi L'unica speranza È che un vulcano Dormiente Da sotto lo studio Si risvegli E ci travolga La lava E i lapilli Sarebbe un andarsene Con dignità Hanno fatto I buratini Io mi auguro Che un po' di dignità Sia rimasta A Cerata Che vedo già davanti All'abitazione Del ministro Madia Vai Cerata Buonasera direttore Buonasera Cerata Ha coperto la marca E il modello Dei sanitari In arrivo al ministero Sì direttore Abbiamo scoperto Che i sanitari In questione Verranno prodotti Nella comunità europea Quindi non come si pensava Precedentemente Cerata scusa Guarda che c'è Barchielli Del Tg1 Che si è preso La scena Ti prego Ma questo è bravissimo Cerata Chi se ne frega Siamo in onda Ci sei tu In onda Ma io lo guardo sempre È un mito Per me Ho capito Ho capito Cerata Ma devi dire E di spostarsi Evidentemente Siamo arrivati Prima noi Sì sì ma lui Il collegamento Lo fa molto meglio A dici Che lo fa meglio È bravissimo Direttore Anzi mi scusi un attimo Barchielli mi scusi Possiamo fare un selfie Mi spiace siamo colleghi Scusate Si fa un selfie con Barchielli D'altronde Rispetto a Barchielli Ho un'intervista con Putin Se puoi gentilmente Grazie Direttore c'ha Putin E noi abbiamo Le assi del cesso Evidentemente Scusate Io non so più cosa dire Vabbè Usciamo dal collegamento Trovati un altro posto Cerata Magari dietro I bidoni dell'immondizia Torniamo Noi siamo come Il pesce pagliaccio Vicino a un capodoglio Rispetto al TG1 Credetemi Il pesce pagliaccio Non l'ho scelto a caso Ma torniamo alla Sarchioni Vediamo se si è ripresa Sarchioni Evidentemente La Sarchioni Non solo Non si è ripresa Ma Si è anche formato Un piccolo Capannello Una folla Davanti all'uomo Con e a L'impermeabile Evidentemente Ha qualcosa Di interessante Sotto l'impermeabile E Sarà Nostra cura Farne evidentemente Una maratona Televisiva Grazie Ma torniamo in studio Adesso Dove tra poco Bene Iniziamo L'assemblea condominiale All'ordine del giorno Le perdite del balcone Della signora Falciani E la sostituzione Dei pluviali Scusate È partita un'assemblea Di condominio Ci sta Io capisco L'urgenza dei pluviali Ma stavo conducendo E una maratona E già Te e le tue maratone Fino alle 4 del mattino Vai Cerata Diamo la linea La cerchioni E quello che entra E quello che esce Tutte le ore Qui c'è gente che lavora E ho capito Teoricamente Teoricamente Naturalmente Starei lavorando Anch'io Almeno Si metta le pattine Allora Allora Mettiamo i voti Chi crede che il dottor Mentana Deba fare le maratone In silenzio Alzi la mano 1, 2, 3, 4 Io non la alzo Ma che dire Cari ascoltatori La maggioranza Ha sempre ragione Quindi Non mi resta Che dire Mariano Apicella Canta Ogiorofis Questa qua È una canzone Con la gravata Con tre parti Del nostro corpo La zona Del petto La zona Dominale La zona Parietale Che non l'ho più Il petto Va in avanti Il ginocchio Va a menischio Rinforzato E le mani Alla vigliacca Dietro I tengo a leadership I tengo a precisarlo I tengo a stu governo Della libertà I tengo tanti impegni Bisogna essere degni Dovodo elettorale Che mi ha messo a ca Ma tengo Un'agendina pertinente Su cui mi appunto Certi numeri avevi E convo quei guaglioni Più attrente Perché ti tengo Qualche cosa in più Perché ti viene Perché ti viene Non posso dirlo E se ti dice E se quando vuoi E se te l'ata Vi dico che tengo Io E se te mi dice Va bene Ve lo dico I tengo I tengo Occhio Chiodo fisso Occhio Chiodo fisso Paronna mia Ma che vuoi Dica Mi sento Scisso Sto chiodo fisso Un po' Ma chiedo Un po' Mi fa Pazzia C'è Chiodo fisso C'ho il chiodo fisso Sono Vesuvio Appassionalità Sarò Prolisso Ma ho il chiodo fisso Sto maritato Ma ho l'immunità Mi tengo Una muliera Che a volte Se no agna Se dico Alla Carpagna Che va Fattizza Ma che a muliera O magistrata Tazzo Rarà e tv Ma cattolo D'alfana Non ci pensa Chiu Tutto insieme Occhio C'ho il chiodo fisso Occhio il chiodo fisso Maronna mia Ma che vuoi Dica Fattizza E mica Scisso C'ho il chiodo fisso Ma per fortuna Poi ci sta Sacca Mi tengo Una muliera Che scrive I giornalini Se dico Alla Gemini Che mi fa Pazzia Paga Muliera O magistrata Tazzo Nella E tv Ma cattolo Dalfana Non ci pensa Chiu Benvenuti Alla presentazione Del mio programma Della Lega Che è quello di governo Per la regione Lombardia I punti Del mio programma Sono quattro Chiari E semplici Il primo Tutta impresa Il secondo E startappiamo I giovani talenti Il terzo Lombardia Scuola di welfare E infine Nata Su mia proposta Disorganizziamo La criminalità Organizzata Sì Umberto Cosa c'è? Disorganizziamo La criminalità Disorganizzata Ma che sei bravo Mia proposta Tu sei bravo Roberto Tu sei bravo Sì E no Questo qua Studiato Maroni 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 Sì Grazie Lui Umberto Grazie Umberto Vorrei finire di presentare il programma Perché poi Lo so che ti metti a cantare Parla pure Che ti seguono Ti seguono Noi Per quello Della Lega Della Lega Che abbiamo Umberto Scusa Mi distrae così Ah no no Mi deconcentro Ah ti da faccio io Ah pensiamo che ti facessi piacere Per qualcuno sordo Che ti diceva Non mi ricordo cosa devo dire Mi deconcentro Mi togli la concentrazione Mi dice concentrati E no E certo Beh ma è facile Scusa Tentro Caldo Rilassati Sono rilassato Ok Tu Chi sei? Maroni Maroni Bene Ma quello lì ce l'abbiamo Cosa vuoi conquistare? Il nord Maroni al nord Maroni al nord Umberto Maroni al nord Ti prego Umberto Umberto Ti prego Guarda Sto presentando il programma No ma non ho nemmeno fatto Con c'è qualcosa che mi ha proposto Lo stai facendo ora Non ho fatto Non potevo farla Per favore Hai ragione Hai ragione Scusa Non è che adesso Allora per favore Vai via Vai tranquillo No vai Non stare qua No vai dietro Vuoi che vada? Sì vai Fai un passo indietro Per favore Scusa Ecco No no ma ti devi proprio togliere Vuoi che proprio Devi andare via Su mia proposta Il segretario sono io Tu avevi detto che ti facevi da parte Scusate Non era temporizzato Dunque Stavo spiegando Il mio programma Umberto Cosa c'è? Il programma Ci sono le ronde padane No Umberto Non ci sono più No Oggi parliamo di patti territoriali Per la sicurezza Vogliamo demaffizzare l'Expo Vogliamo che la Lega Strartappi e demaffizzi Demaffizzare l'Expo Non riesco neanche a dire Proprio studiato tanto Quindi le ronde padane contro i negri e gli immigrati terroni che ci pronunciavano tanto Non ci sono più Non ci sono più Le ronde? No Le ronde no Ti prego Le ronde no Ti prego Umberto Le ronde no Umberto Le ronde Le ronde Noi ci sono più Le ronde Noi ci sono più Le ronde Per chiudere Non fai farlo solo Aggiungimento del nostro obiettivo Ecco perché oggi ci alleiamo col PDL Io credo che per quello alleandoci col PDL Avremo ottime probabilità di centrare il nostro obiettivo Che è quello di allearci col PDL Ora dobbiamo raccontare Grazie Dobbiamo raccontare con la mia guida Il rinnovamento perché la Lega è cambiata Basta col passato Basta col passato Adesso veramente basta Esatto Il passato Basta col fiume Po Esatto Basta con la padania Sì basta Basta anche con quegli occhiali Che sembri un pirla Un pirla Un pirla no Allora Umberto Un pirla no Ora io ti chiamo Umberto Che pirla sei? Te lo giuro che io ti spazio La gara La rinchi Che raga Non mi fai niente Non mi fai niente Non mi fai Umberto Buonasera e bentornati a Ketzenger Il programma che fa del dettaglio stucchevole e impreciso Una nuova forma di divulgazione In questo numero Quando Mosè divise le acque Mise a destra la gasata E a sinistra la naturale È vero che i ciclopi avevano un occhio solo Perché si massacravano di pugnette L'oro degli incas Veniva tutto dai braccialetti Delle comunioni Ma seguitemi Sulla nostra astronave del sapere Del fare Del baciare Lettera e testamento Grandi leggende a Ketzenger Mistero Facebook Perché Marcello Dell'Utri ha molti amici Ma ancora più amici degli amici Trovato l'anello di congiunzione Tra l'uomo e la donna È un anello da 6.000 euro Misteri italiani Ascoltando le canzoni di Gigi D'Alessio Al contrario Migliorano E infine La grande storia ricostruita Scegliendo una voce a caso Così da Wikipedia Plino il Vecchio da Giovane Si faceva chiamare Plino il Vecchio da Giovane Napoleone I cento giorni all'isola d'Elba Erano in offerta A tu per tu Con gli otto mani Il popolo che inventò L'applauso Ma soprattutto L'oscuro segreto Che porta sfiga A chi cerca di svelarlo E come caspita È possibile Che io sia Vice direttore Di Rai 2 Tutto questo A Katzenger Io l'ho già detto ragazzi Sembra un incrocio Tra Katzenger E Banderas Un Katzengeras Un Bandagers Buonasera Benvenuti a Katzengeras Misteri della colazione Del biscotto Per insultare un fornaio Bisogna dargli Del figlio di Pagnotta Scusate Scusate È stato È stato È un crossover Bene Adesso lo sapete Cosa mi serve Vero a me Mi servirebbe tanto Una mamma Buonasera Buonasera Bella mamma Che bello Vederti Ti aspettavo Sono venuta A prendere Il savoiardo Ti faccio vedere Come lo facciamo Il savoiardo Sì Perché il savoiardo È smu infingardo Arretriamo Verso il savoiardo Il savoiardo È infingardo Perché Donde sta il savoiardo Il savoiardo Dove sei infingato Dicevo Perché quando Lo pucci È diventa mollo Sì Sai come si fa Sai come si fa Per non farlo diventare mollo No No È l'amalgama È dell'impasso Metti le mani così A coprita E tu devi fare Devi fare Devi fare Ecco così La farina Un po' di uovo E poi Devi spattere Così Piano 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 Te lo ricordi Come faceva mia nonna Farla lievitare Con tanto calore Con tanto calore Del nostro corpo E poi E poi zucchero Avello sopra Un po' di zucchero Avello sopra Non ti ho mai insegnato Come si fa la crostatina De mertino e nocciole Non te l'ho mai insegnata Non gliel'ho mai insegnata Crostatina Francesco Crostatina Divulgata e nocciole C'è lo stop E poi se partiva con Dai che se no Crostatina e nocciole Via Mia nonna Mi insegnò Mertillo È da schiacciar Il succo spalmerò E in forno Ha di si trattare La pasta a lievitare Col calor Della passione Che poi Si è infilato E così E così E le noci E le nocciole Però Non si attaccano Da sole Ma come fa Ad attaccare le nocciole C'è vorrebbe C'è c'è qua Un'idea fralinata E con l'acqua La mela San tormento Però E' fuori Una torta D'amore E' un'idea fralinata E' grandissima Tocca a te Raggiulo È arrivato Il dilusionista Hai anche profumo Di dilusione O di dilusion Aspetta che mi metto Il cappello adatto Per questo momento Di dilusione Mayday Mayday Sono tutti muoro Signore Anch'io sto per muoro Ma resisto Fino all'ultimo Questo è Vietnam Della merda Sei Vietcong Tu gargiulo Stai attento Gargiulo Sento che stai diventando Santone Della religione Di diludendismo Tu hai problemi Di cottura Sai questo Sai questo Cosa hai portato Chef Ho preparato Rigatoni Con salsa di alici E speck Con granella di mandorle E pistacchi Pistacchio Pistacchio O pistacchi Stacchio Plurale Senti rumore Senti rumore È crudo Tuo padre Ha preso Le stesse lauree Di Oscar Giannino Se mio cane Se mio cane Vede questo Aspetta che tu Vai a giocare A bowling E poi fa piscia Dentro buchi Di palla Oh my god Questa salsa Allo stesso si porre Della lana Dentro l'ombelico Senti questa musica Senti questa musica partita Mi ispira canzone Italo-americano Di Marty Senti Quando tu fai il piatto Lo saggio Vedrà che io muorò Che io muorò E la faccia Che c'hai Arrogante Mi stai Diludendo Diludendo Viene qui Con il mio tagliolito Con il suo pisto Limpiscia Su tagliatella Il faggiano L'hai conto bene L'hai conto bene Che ancora Saltella Il faggiano Ai l'ambo Fa venire Everyone Un malorro Un malorro Hai piattato Lo spingo Che sembra La zampanica Tu l'hai fritto Così dentro L'odio Però Col motoro Scuzzami Voi che muorò Io muovo Con sto papazzone Io muovo Io muovo Ecco mi caro Sono venuta A porgerti L'estremo saluto Certo che due esami Potevi farteli Te l'avevo detto Anche lei qui per lui Sì Lei chi è scusi? Un'amica Che genere di amica? Molto amica E lei? La moglie Molto moglie Capisco Le manca tanto Già meno di prima Volendo Era un uomo Così pieno di vita Eh sì Sì Da vivo Sì Salve Anche voi qui per Sì Lei lo conosceva? Se lo conoscevo Sì Sì certo Scusi ma Lei chi è? No perché Lei è sua moglie Io sono un'amica Beh Definirmi solo un'amica Mi sembrerebbe Un po' riduttivo Ecco Sì A questo punto Direi che anche Solo moglie È riduttivo No? Sì Era un uomo Così generoso Perché Lei Ha mai regalato qualcosa? No Adesso che ci penso no E a lei Faceva regali? Una volta Una multa A lei Ha mai fatto un regalo? No Diceva sempre Che quello Che non spendeva i regali Lo dava ai poveri Ah Faceva donazioni benefiche? No Mai Per verità Piuttosto morto Ma In quanta generosità Era una merda Assolutamente Assolutamente Beh Forse comunque Non era generoso Ma Era senz'altro Un uomo onesto Ah È vero Sì Ad esempio Quando non poteva venire da me Non mi mentiva Diceva chiaramente Che non poteva Perché Sua moglie Era vecchia E malata Le sembro vecchia E malata Beh Malata no Invece Quando non poteva venire da me Diceva Che doveva tenere compagnia Una sua amica Psicopatica E vecchia Scusi Le sembro vecchia E psicopatica No Vecchia no Comunque Anche con me Era onesto Mi diceva sempre Che non aveva Un'altra donna Ed era vero Ne aveva altre due Beh In quanta onestà Era una merda Assolutamente Beh Però Era pieno di vita Amava molto lo sport Oh è vero È vero La domenica Ricordo Andava sempre allo stadio A vedere la propatria La propatria Non esiste più da anni Sì Allora dove andava la domenica Vabbè Veniva da me E le domeniche Che seguiva la squadra In trasferta Veniva da me Ecco E vabbè Vabbè ma scusate Visto che ormai È morto Tutto Tutto morto Dico Con voi Lui Sessualmente Dico Lo faceva? No 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 Però ne parlava spesso Con me una volta L'ha fatto Davvero? Beh sì Cioè Così mi ha detto lui Io mica me ne sono accorta Comunque lui poi mi ha detto Anche che mi era piaciuto Sapete cosa vi dico Nonostante tutto Un po' mi manca Eh sì Sì Sono sempre i migliori Che se ne vanno E allora perché è morto? Ma È terribile eh Terribile Ha lasciato proprio un vuoto Incolmabile Incolmabile Assolutamente incolmabile 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 Ma Che ora si è fatta? Beh direi che si è fatto tardi Anzi Io questo è un vuoto No vabbè perché Non è che possiamo stare tutta la sera A dire incolmabile Questo è vero Sento come un crampetto qua di vuoto Non so se Stava fame? Non so Sì Io ho la casa libera Ordino delle pizze Porta due amici Grazie Facciamo tre Grazie Grazie Io lo lascio qua Ecco Ciao Riposa Riposa i pazzi Ciao Chi vive in baracca Chi suda il salario Chi ama l'amore I sogni di gloria Chi ruba pensioni Chi ha scarsa memoria Chi mangia una volta Chi tira il bersaglio Chi vuole l'aumento Chi gioca a Sanremo Chi porta gli occhiali Chi va sotto un treno Ma il cielo è sempre più blu Ma il cielo è sempre più blu Ma il cielo è sempre più blu E il cielo è sempre più blu Dove siamo qui? Ma il cielo è sempre più blu Chi�에ate Chi 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 Hi Chi Chi